potremo vedere partiamo e formazioni sono queste che vedrete via concentrazione massimi livelli magie al massimi livelli vinceremo stadio pieno tutto già lo vedete 8.000 da roma partiti subito in pressing zagnone solitaria ma è la due frisci ecco dorme subito poterlo di partita ragazzi c'è da stare calmi perché questa è lunga 25 minuti si rischia il rosso ragazzi in queste partite e c'è da stare molto attenti a non fare fallo quindi arcini come delle bestie ma niente falli grazie va che vai arriva faccita va che è altissimo chiudilo lì attenzione ragazzi no scoprati no eh di salta in testa un po' mi metti che le formazioni ma alla fine le riesco a vedere è un po' più faticoso del solito ma via lo è deciso dai intra su so la untare nel solo risatta bellissima ci facciamo la untare nel solo dopo quattro minuti che schifo arriva apprezziamo questa solitudine si lascia si lascia anticipare guardate palle in mezzo solo deve solo tirare una mina l'auto da merda bene ragazzi calmi tranquilli siamo solo il quinto minuto il tempo passa lentamente concentrati la partita è lunga controllo bellissimo con l'r2 no non con l'r2 con il tasto l3 quello in basso attenzione ottimo gestiamola con la tecnica raga avanti avanti Savoia e che gliela rubi e zecco dai non sa che ti trovo però perché mi serve anche per dopo una certa età calmo calmo calma bene ottima gussata terribile Corea 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 che corre lancio bellissimo cercano no si Lautaro Lautaro ancora in pressing i salivastoni mi fido eh belli a gestire così tutto di prima bravi ottimo non molto preciso ma bravi l'impressing da che la chiudiamo un po' presto per chiuderla perché siamo solo al decimo minuto cos'è? ottimo fallascio ah no sarà fuori sciocco ha fatto un fallascio è scappata da dietro secondo me è scappata è grave calmi ragazzi calmi la partita è lunghissima devo stare molto allo attenti bastoni una sicurezza una garanzia si salva il Loredi è un fallissimo questo qua provvedimenti comunque grande salvataggio qua ragazzi avevamo già beccato gol invece bravissimi devo dire bella c'è l'anaglio c'è l'anaglio oh è fallo è bello se ne alza come un prestigiatore e viene steso aiaia perché questa volta gli va bene guarda il tocchettino c'è l'anaglio che se ne alza apprezzatemi bellissimo avete visto che roba questa è tecnica ragazzi e punizione ci prova Borosovic la siderale ma è fattibile e blocca Ruy Patricio sicuro mazza che rivio Ruy Patricio che lo fai che patricio ha fatto se la gioca e no dodicesimo del primo tempo in per uno Roma zero dobbiamo solo restare calmi perché non siamo abituati a non falciare come voi sapete siamo molto aggressivi di solito dobbiamo stare calmi e allora perdo la testa ragazzi non è vostro interesse non dovete perdere la testa ma qua siamo tranquilli bel intervento ragazzi va bene così calmi e sicuri dei vostri mezzi ottimo ottimo lo salta eeeh cominciamo con le ammunizioni cominciamo con le ammunizioni o no allora che facciamo la buttiamo su spittigieco via faccia troia dai così spizza da dietro gomito laccio californiano ah dai cos'è quel malinteso di a centro campo bravissimo ok ottimo ottimo bravissimo doomfreeze ottimo dai doomfreeze cavallca esplode esplosività non vuoi non vuoi cosa è ahah dai io ho avuto una roba caso quasi ottimo bastoni tranquillo subito tutto è l'amico a piacere aia chiudere ragazzi oh va bene va bene va bene eserci che troia clausi scroscianti ma chi così perché non ti ho distinto tra i miei giocatori eh sono un po' neri neri un po' faccio fatica sai la vecchiaia sono mai mago merlino ah tu sei mago merlino eh sì sono un po' anziano guardate l'Inter come gestisce bene rischia un po' perché rischia un bel gioco sta proponendo guarda che tecnica c'è la Noglu un momento che faceva il numero c'è la Noglu dai dai che sta correndo sulla fascia vai tu e lo rincontro su ragazzi dai stop di prima bellissimo però mi ha spinto ragazzi mi ha spinto però bellissimo il controllo dai vai a chiudere no no uscita ottima sotto le gambe dai vai ti muovo e poi non ci vede vai stai ottimo e fallo giù che roba ruotaro mi sbagliate ancora un Inter che presta è incredibile bella è schifo eh culo ce la ritrova lì amici ce la troviamo qui la buttiamo in mezzo precisa nooo è a fuori gioco però forse no secondo me no se no perchè interrompe così perché angolo perché angolo si è andato fuori si è gran parata comunque vabbè distinto dalla lì va schema bella c'è che arriva un attimo e fa che non lo fate devo tirare oh me l'ha già prodato correre bene all'indietro bravissimo butta su va che è meglio ottimo controllo in area rischiosissimo sia che rigore d'uffris non lo trova non va ti che bastoni bravo bastoni lì stai attento che corra eh ottimo non puoi cioè monizioni pesanti queste qua sono eh per una roba da nulla guardate cosa l'ha trattenuto un po' va bene fino a poco tempo forse lo cambia spero di non beccarmi un'espulsione bravo stai calmo eh chiudere chiudere ottimo e partiamo dai siamo un copo di capo forse non lo sarebbe neanche se lo facciamo ma ottimo bel fraseggio intera va bene col culo no ottimo dai allora fallo va che fai schifo abito è veramente schifo ottimo ah bravo bravo ho un bel filtrante in avanti bravo non serve neanche lo spitz se la ritrova e va che roba incredibile non è filtrata eh no il lancinino mi freghi se stiamo attenti non ci fregano con quella roba lì e col fraseggio tecnico che abbiamo su che azi amari questo è uno schifo questo è uno schifo collaborazione ma che cos'è lo tiro giù eh tiri giù lo tiri è già ravi la confezione per abran mamma mia cambi lì no cattroia è già ravi la confezione 40 finte poi alla fine è riuscito a segnare al 32esimo che lavoro che lavoro che la troia e ciao e ciao che doveva che cercare di rientrare invece è andato a crossare purtroppo preciso figa cattroia guardi testa ragazzi ragazzi dai eh non perdetevi d'animo non è finita adesso dobbiamo cercare di farne un'altra cosa cosa fa dai dormite adesso non deprimetevi eh però non è successo quasi niente quasi è successo qualcosa è successo qualcosa è successo purtroppo sì dai ragazzi dai dai non perdiamo la testa lo so che voi la volete perdere ma non dovete ottimo non per il svegli ho perso il tempo ne vorrei ottima nulla nulla bravissimo annullare perché dovevo annullare ho perso il tempo cercavo i pugni porca vacca ottimo scambio possiamo ancora dire la nostra che schifo è che la roba ottimo due voi sei miglior è il saldo che è il saldo che è il saldo se la trova lì cosa devo fare devo insaccarla o no tranquillo sono come un cane ha il tempo di mirare guardatelo riceve potrebbe tirare subito qui invece no scusa che vado un attimo avanti che becco il palo faccio una carambolina e 2-0 lautaro 2-0 no guardate prende la mira gioca bigliardino rete bene si riparte 2-1 come vantaggio l'inter concentrati ragazzi dovete stare un po zitti e giocare cambia il gioco lunghi e vacca troppo ottimo ottimo bellissimo questo scambio lo trova no quasi lo trova se non rimpallava qua era da solo ottimo il terzetto ancora sta risalendo quest'intera e la cattedra è di nuovo galvanizzata quando recupera pallone vuol dire che sta bene mamma mia cazzata lì non fare fallo ottimo su ottimo vai vai filtrate mamma mia mamma mia credevo nell'autogol mi chiudevo dell'autogol no no è incredibile quella roba lì no bravissimo che sei bello veramente allora con grande tecnica lo tiene dietro no è brutto questo però neanche tantissimo dai rubala lì diventa una palla sanguignosa ritmi infernali bravissimo bravissimo la compagnia di uscita è corner kick un attimo se ne vanno reti scappa fuga fuga per la vittoria si allontana vado eh vai vai via 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 questa palla di merda dall'aria vado dove è bastoni sei bravissimo tranquilli dai che è quarenta e cinquesimo si va a riposo raga bocca chi è mi è salito in cielo guarda che c'è qualcuno è finito il primo tempo devo fare un accorgimento martinesco è accorgimento ma che senti tutti i poti per l'inca che cazzo abbiamo meritato ragazzi non pensavo così tanto ma accorgimento accorgimento c'è un cambio per il dedo e anche per me che penso che l'ammonito me lo faccio fuori brozzo che non voglio rischiare quindi va bene in realtà Arturo 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 boh io faccio solo questo va bene così vado a dire stanco c'è la noglue no non mi gioco il cambio subito no no non lo faccio non si sa mai cos'hai fatto di bello ho messo cristante un po' più a ridosso delle punte le punte a ridosso di abram insomma cerchi di aiutare di più l'attacco bene bene continua così perché se i tiri tutti in porta si vede che vogliamo rimanere concentrati bene continuiamo così attenzione ai primi secondi di gioco perché sono dettagli a volte mamma mia aiuto che culo ho avuto un po' di culo con i ripalli qua poteva andare a finire a mai qua è stato bellissimo invece ha evitato il giocatore molto bene bene lo tiene dietro benissimo va che puttana il gran numero anche qua dell'autox sta giocando molto bene oh no look queste difficoltà ottimo niente ancora noi ecco lì recupera sempre lì poi vai avanti con barella bellissimo la dà ottimo bravissimo bravissimo dai va bene così ottimo giochicchie cosa fai bravissimo non ho capito di andare lì se no è ottimo questa ripartenza però bello solo come piace a me scambia col compagni forse lo strozzo tenti che fa il solito lancio ma noi chiudiamo bravissimo un bel cambio gioco no sto facendo dai su salire pressi ottimo pressing mi piace questo pressing mi piace questo pressing se lo scrolla di dosso wrestling in campo niente ottimo recupero ancora punta correia ancora compagno supporto ancora correia guarda devrai devrai sulla fascia si ferma perché è lento niente l'inter è incredibile il recupero ragazzi comunque dai e vai bellissimo facca cercare in pallo isolatissimo chiuso ottimo l'inter veramente ottima un bello scambio il tiro finale veramente mi aiutava di andare un po' avanti e fare qualcosa di più lo sbastonano grandissimo va bene non si arrende liscio terribile di cristante arriva c'è la noglue si fa aiutare i compagni dai che vai bellissimo c'è la in mezzo eeeh che parola che tu era era bellissimo quell'assist lì altro che era bello altro che qui va che brutta qua tieni eh tienilo tranquillo con calma che va che ha sfigagnolo 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 era bello beve qua si vede male ma in aria era in palla ma mi sa che percato ci sarà molto lato si è buona si è buona e si e si 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 oh ma qua un po' sfigata va che mi mangia in testa che non c'è poco da fare va che allora chiudi dai che la presciamo qua la perde prima o poi mica tanto calmi calmi tenere tenere duri bravissimi siete compatti siete compatti mi piace filtrante bravo controlla bene in due sennò che vanno fottuti ma non i filtrante f*** che vanno a rischiare per niente in difesa mi fanno incazzare troppo quando rischiano così tanto per niente in attacco vanno bene sono tranquilli dei loro mezzi eccetera in difesa giochichiano troppo anzi in due di giochichiare la partita è lunga ancora bellissimo bel filtrante ottimo in aria Zecco 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 c'è caricore Zecco Zecco e cazzo di rigore e cazzo di rigore Zecco lo trova intelligentissimo rimane immobile poi si sposta di nulla il rigore non è evidente ma c'è poco da fare ragazzi intelligentissimo Zecco subirà 30 spinte arriva l'altro gli tocca il piedino è finita Zecco rapproverà no chi è se non ho più io spero non so tirarle sperami bene si stavolta la mette in calibre Loretti che non fa mai un rigore decente tutti al centro della porta stavolta mette un sigillo pesante quando siamo giunti nel 31esimo qua intelligenza di disastro di Zecco in mezzo a due difensori disastro Roma ed ora gli ultimi 30 minuti di gioco dai tranquilli niente ma niente siamo ovunque intubiamo qualsiasi cosa facile facile ragazzi per adesso annullato quasi l'attacco della Roma bello bravissimo un po' finché tu dice tutto dai così va bene non fai lo gole oh si una sventola di Zecco dopo uno scambio rapido con Lautaro veramente bello no ragazzi niente che merita c'è poco da fare bel dribbling di Zecco meraviglia ah che roia che controllo di merda friscio sta in piedi ogni tanto ma friscio sta figlio pasticcio dai vaglio avanti li vagli in bocca ok prima trattina e non è fallo meno male adesso possiamo anche farne qualcuna ragazzi ma no quella roba lì c'era il servizio largo dai figli era solo come un cane l'ha capita bravo siete veramente belli piacete piacete il vostro mister piacete ma che soffre soffre lotta ma che bravo e alla fine metti in mezzo e poi metti in lì c'era fallita dopo lì c'era fallita dopo lì c'era fallita dopo lì c'era anche fallo lì solo che era fuori gioco anzi dai che andiamo a fare delle belle statistiche se continuiamo così e forse di te faccio il gol te ne ha già fatto i tre cosa vuoi e vacca e Zeko si incassa e che a munire dai ma no poverino stava cercando di fare gol dai su ha fatto un gran contro si pugni te e vacca stava strozzando tutti Zeko ragazzi è così niente beh ottimo bevesimo bastoni lusso si concedi lusci bastoni eh vabbè è finito il campo però devi farlo prima quel numero lì non dopo però bravi perché sul 31 al 75esimo si può fare si può anche fare i furbini si correte e poi dopo i furbi poi dopo la fine abbiamo beccato ma cos'è Abram Abram e Lautaro Lautaro no ce n'è un altro Zeko anche forse no ce n'ho ovvio il suo rigore che lavoro bella difesa quando vi scomponete dopo beccate delle robe del genere ma che ora tutti fighe di testa da un millimetro dai ma si abbiamo riaperto perchè volevamo riaprirla eh bravi coglioni e adesso rigestirla bene e fare il 4 allora gestita bene proprio gestita bene dai proprio bella gestita bene devo dire la vacca andiamo a chiudere magari ogni tanto non male ragazzi lo ho eh mi state rompendo il cazzo su su spazzamenti comincia a lasciare di spazi no recupera bene adesso però poi parte pericoloso Loretti adesso lo vede cosi merda turista scopo di testa ridicolo io ragazzi è turista da lì da un metro ho fatto un passaggio è una caliscia lo faccio ti ringrazio l'ho riusciata io magari si è turito il pallone molto sportivo è una caliscia e via le valle abito idiota ragazzi stiamo calmi sventola ogni fallo c'è un intervento e munizione stiamo calmi non è finita bravo bello quella ble no era bello il tentativo di scambio era bellissimo era bello 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 ma che è rosso montalo non voglio vedere calci d'angolo non voglio vedere calci d'angolo ma non da là va che ti liscio è un po' rischiuso ma bello tu c'è lì niente fallo ma che lob precisissimo e mezzo e te l'ho messo il gol che mi ha giù San Siro perca puttana stava lì da rovesciata infatti l'ha fatta eh no sono i 60 ma no ma quella stronzata lì dai recuperare il pallone bravissimo no così va bene ammonisce anche lui ammonisce ogni volta che c'è un falletto ammonisce per tutto fiscalità 10 vuoi vedere la fiscalità che roba gli ha messo una manina così mamma mia gli ha detto forse ho toccato il copino no l'ho avuto là oh no stavate vai un po' più in cielo Zecco e va che figa se lo fa scurare come un bambino di due anni oh eh manca eh sì chiudere qua è brutto chiudere mi raccomando bene annulla bravissimo ragazzi hai scampato pericolo era veramente brutta non mi piaceva scambio tecnico bravissimo proprio quello che volevo ottimo pallone bella azione tutta di prima fallo e fallo con l'isciane la buttiamo in mezzo al novantesimo due di recupero ragazzi quasi finita e va che roba non è che cosa ha ma fallo finiscono le ultime speranze romaniste no che stronzata cos'è la chance tutti su interoperazione tantissimo tantissimo bastoni una bella bastonata al novantunesimo e 49 guardate che bella bastonata di bastoni per affesteggiare il fine partita eh sì si posiziona benissimo e la va a finire l'Inter vince 3-2 con la Roma con doppietta di Lautaro e gol di Ciannoglu sul calcio di rigore la Roma con i rimpianti con Abram che poteva riaprire la settantasettesimo anzi l'aria aperta ma alla fine la portiamo a casa noi che roba 36 e 24 il tempo totale di recording molto bene guardiamo le statistiche ragazzi il dedo in depressione no sta abbastanza bene vabbè parte questo con l'iniziale vabbè evitiamo di guardare tutti i replay li guarderete voi eh decidete voi se non meritava l'Inter di vincere con 10 tiri in porta contro 3 e il possesso 56 si poteva stare il pareggio ma la statistica secondo me è meritata sentite la mancanza di dibattito eh mi spiace non c'è ti devi fare a meno lo so va bene un saluto ragazzi alla prossima grazie ciao